Eccoci con il consueto appuntamento del venerdì dove ti proponiamo alcuni filmati ripresi durante gli ultimi internazionali di tennis al Foro Italico a Roma e tra qualche istante andremo a vedere Lorenzo Sonego. Prima di proseguire con questo video ti informo che assieme alla mental trainer Roberta Lubrano abbiamo realizzato un video per aiutarti a gestire meglio le varie situazioni che ogni tenista incontra prima durante e dopo la partita. Un esempio è la paura di perdere se l'avversario classifica più bassa oppure il pensare di aver già vinto quando siamo 40-15 e manca un punto per vincere il match. Per vedere questo video che è disponibile fino al 15 di giugno è sufficiente iscriversi alla nostra newsletter c'è il link qui in alto a destra se ci stai guardando nel nostro canale YouTube oppure clicca nel link presente nella biografia, il profilo Instagram o pagina Facebook. o Sì! Grazie a tutti. 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 Oh... 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 Grazie a tutti. Oh... Oh...